Rose è un programma di residenze che l'istituzione Bologna Musei Mambo ha organizzato per l'anno 2016-2017. Gli artisti verranno chiamati a risiedere per un periodo variabile dalle due alle sei settimane a Bologna per realizzare una mostra nella sede espositiva di Villa delle Rose. I primi artisti coinvolti dal progetto Rose sono il Maoni Collective che hanno proposto un progetto di mostra estremamente interessante capace di dare forma a un'immagine della società europea contemporanea in cui molti conflitti e molte contraddizioni riemergono dal suo passato coloniale. Alla base della loro ricerca c'è una volontà di conoscenza della conoscenza. Spesso il loro lavoro comincia attraverso visite in musei. Nel nostro caso, nel caso di Bologna, hanno scelto il Museo Antropologico dell'Università. La prima sala della mostra sarà dedicata a questa visita. Gli artisti risiederanno a Bologna nelle prossime quattro settimane per presentare un progetto di mostra dal nome Ghosts and the Self in cui verranno presentate sia opere preesistenti che opere specificamente create per Villa delle Rose e per la Residenza. La mostra aprirà al pubblico dal 9 di giugno al 31 di luglio del 2016. Grazie a tutti.